Una delle curiosità che si ammira alla regia di Colorno è il fleur de lì, il nostro giglio comune, che qui nella sala che era la camera da letto di Louise Libesabet di Francia, figlia di Luigi XV, troviamo nel pavimento, ma anche in un angolo della volta e un simbolo araldico che insieme a Leone, alla Torre e alla Croce erano parte dello stemma di Filippo di Borbone, marito di Louise Elizabeth di Francia, le cui iniziali L e E sono riportate nel quarto angolo della volta. Una sala questa che è parte delle sale di rappresentanza che hanno le finestre sul giardino di Colorno, nel cui parterre si ritrova appunto il giglio in forma stilizzata.